Va subito a prendere il Dragonfire per Opaline, risata malvada! No! Non puoi tradire i tuoi amici! Risata felice! Ehi, Misty! Che cosa fai? Stavo... Stavo solamente ammirando l'erba! È così verde! Non c'è nessuna lotta interiore tra bene e male qui! Misty! Si può sapere dove sei! Sto ripulendo l'energia della collana! Io adoro ripulire l'energia! Ti aiuto? No! È tutto a posto! Faccio da sola! C'è qualcosa di molto strano in quella collana! Ti comporti in modo bizzarro ultimamente! Dunque, sei stata tu! Divertente! Non sei d'accordo? Sì! Zip ha ragione! Perché non te la togli per un po', così almeno? No! Ecco, non posso proprio toglierla! È molto, molto speciale per me! Adesso, se non vi dispiace, avrei delle commissioni da fare! C'è mancato davvero poco! Oh! Frutti Luna! Quelli sono i preferiti di Opaline! Non ti muovere! Non puoi proprio toglierla, eh? Di sicuro mi vorrà bene per almeno cinque minuti quando vedrà che cosa le ho portato! Oh! Collana! Dove ti sei cacciata? Ti avevo detto di non muoverti! Sentite, c'è qualcosa di strano in questa collana! Da una parte sembra avere tutte le caratteristiche di un oggetto molto malvagio, ma dall'altra è... Super Lucicosa! Ehi! Io sono Itzy ed ecco a voi una stupida poesia! I poni terrestri puzzano e i pegasi persino di più! Fanno tutti il bagno in cucina e lo fai anche tu! Ah, il bricolasse è proprio annoioso! Oh no, il cavalluccio di legno! È come se la collana ti trasformasse nel tuo esatto opposto! È l'antilucicchio! Regole a chi serve! Ruby, getta la spazzatura per terra! Sì! Continua! Sì! De più! Qualcuno vuole una bella canzancina? Che cosa mi è successo? Non può essere semplicemente scomparsa! Quando lo saprà Opalina, andrà su tutte le furie! Sì! Oh no! Chi ha bisogno del lavoro di squadra? Ogni poni deve arrangiarsi da solo! Io sono la legittima aerea del trono di Zephyrites! Perciò inchinatevi tutti al mio sospetto! Oh no! Che cosa stai facendo ai miei amici? È incredibile! Mi sembra quasi di non essere più me stessa! Già! Anch'io mi sento molto diversa dal solito! Su, avanti poni! Venite con me! Avevi ragione tu, Zip! Questa collana è davvero molto malvagia! Allora, come ti senti adesso, Misty? Mi sento molto bene! Molto più leggera, più felice! Insomma, più me stessa! È davvero fantastico, Misty! E ora, sputa il rospo! Chi ti ha dato la collana? Era un cimelio di famiglia! Un regalo! L'hai trovata a Bradelwood! Fidati di me! È molto meglio che tu non lo sappia, Zip! Ma, anzi, dammi almeno un indizio! Di certo non è un gioiello dei Peggy! Degli amici! Sì! 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 Sì!